Signori buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine solito, usuale, classico e consueto della mia libreria. Allora, cari signori, da questo numero di aerei nella storia, lo speciale Ali Tricolori del maggio dell'aprile 2002, eccolo qua, parlerò finalmente di un argomento che mi è stato chiesto più volte di toccare, perché parliamo di una delle incursioni, di uno degli attacchi, di una delle missioni più importanti e clamorose della storia della regia aeronautica. Allora, il 19 ottobre 1940, 4 speciali SM82 marsupiale da bombardamento della regia aeronautica colpiscono le raffinerie inglesi di petrolio nel Golfo Persico, portando a termine una lunga, difficile e brillante operazione bellica. Allora, Alberto Rosselli, in questo articolo, ci spiega come quest'uomo, la qualità dell'immagine non è granché, come questo inconfondibile personaggio, ovvero sia il tenente colonnello Ettore Muti, abbia organizzato una interessante e riuscita incursione con quattro marsupiale, con quattro SM82 attrezzati a bombardieri. Il marsupiale, tanto per non saperne leggere né scrivere, è questo aereo qua, uno dei migliori aerei da trasporto della seconda guerra mondiale. Un aereo eccezionale, un trimotore straordinario, veramente un apparecchio straordinario, indubbiamente. Allora, dicevo, il bombardamento delle raffinerie inglesi nel Golfo Persico fu un'idea di quest'uomo, il tenente colonnello Ettore Muti, uno degli uomini più famosi del regime, uno il più bel petto d'Italia, l'avviatore più decorato d'Italia, uno degli uomini immagine del regime fascista. Praticamente, come dire, la regia aeronautica era sprovvista, secondo le parole di Rosselli, ma non solo secondo le parole di Rosselli, secondo l'oggettività dei fatti, era sprovvista di un consistente numero di bombardieri strategici e si adoperò per trasformare diversi trimotori da trasporto Savoia-Marchetti SM82 ed SM75 in mezzi in grado di colpire obiettivi nemici molto distanti ed irraggiungibili dai normali apparecchi da bombardamento in servizio, cioè gli SM79, i BR20 e i Kant Z1007. Queste alcune decine di SM82 e SM75 furono modificati e riuscirono a portare a compimento diverse missioni degne di nota, non tanto per i danni arrecati al nemico, ma soprattutto per il loro valore strettamente tecnico. Dal giugno 1940 a luglio 1943, gli SM82 e gli SM75 da bombardamento effettuarono raid bellici di grande effetto propagandistico su Gibraltar, Suez, Porto Sudan e Bahrain nel Golfo Persico, sostituendosi talvolta ai forse più adatti quadrimotori Piaggio P108, che data l'esiguità del loro numero, ma anche data la loro intrinseca inaffidabilità meccanica, erano aerei che non potevano essere sempre disponibili, ricordiamoci, l'industria italiana non fu in grado di costruire più di una trentina di Pi108, che erano pochi, desolatamente pochi, e che non furono mai appunto, non furono mai propriamente macchine affidabili, avevano enormi 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 problemi. Tra queste missioni c'è da ricordare la missione compiuta alla metà di ottobre 1940 sulle raffinerie petrolifere di Manama, che riassume che ha un particolare interesse. Allora, queste raffinerie inglesi nel Golfo Persico vennero prescelte come bersaglio strategico primario all'inizio dell'estate 1940, quando dalle catene di montaggio della Savoia e Marchetti iniziarono a uscire i primi esemplari del marsupiale convertito a bombardiere. Eccolo qua, l'inconfondibile profilo dell'SM82 marsupiale. Allora, questi mezzi appartenenti a questa particolare serie furono equipaggiati con congegni di puntamento prodieri e ventrali, vennero dotati di sistemi di sgancio per bombe e spezzoni, nonché di alcune mitragliatrici difensive Breda Safat da 12,7 e 7,7 mm. Allora, il 17 luglio tre esemplari di SM82 decollarono da Guidonia, da Roma Guidonia, attaccando Gibilterra e similari attacchi vennero poi condotti sempre su Gibilterra il 25 luglio e il 20 agosto, partendo però da Alghero. Allora, i risultati furono abbastanza buoni, nonostante considerati anche le limitatissime forze con cui la piazzaforte di Gibilterra era stata attaccata. Quindi, ai primi di ottobre del 1940, il comando della regia aeronautica diede disposizioni affenché 5 SM82 da bombardamento del 41esimo gruppo al comando del tenente colonnello Ettore Muti fossero trasferiti da Roma-Ciampino all'aeroporto di Gadurra, all'isola di Rodi. Il passaggio che venne effettuato il 13 ottobre. L'intenzione del comando italiano era quella di colpire con questi speciali SM82 gli impianti petroliferi inglesi di Manama sul Golfo Persico. L'intenzione del comando italiano era quella di impiegare i marsupiali da bombardamento per un attacco dimostrativo sugli impianti petroliferi. Allora, Ettore Muti, diciamo, si mise a lavorare per giorni interi per revisionare completamente questi aerei e stabilire il piano di volo. Allora, l'ipotesi di un rientro diretto a Rodi fu scartata subito perché si sarebbe dovuto sorvolare una vastità di territorio tutta controllata dagli inglesi e, come dire, ci fu l'opzione per una seconda alternativa. Allora, dopo aver bombardato le raffinerie, gli aerei avrebbero puntato in direzione sud-ovest tagliando il deserto arabo e raggiungendo il Mar Rosso e la colonia italiana di Eritrea. Allora, il piano più o meno che vedete era questo qua, questo che si vede in questa cartina. Notate? Ciampino, Rodi, Manama nel Bahrain e Zula in Africa orientale italiana in Eritrea. Si vede la rotta? Ciampino, Rodi, l'attacco a Manama, l'arrivo a Zula in Eritrea, in Africa orientale italiana. Allora, allora, allora. Praticamente il 18 ottobre, dopo aver fatto il pieno di carburante, aver installato alcuni serbatoi supplementari ed aver sistemato all'interno di tre dei quattro SM82, uno venne lasciato di riserva, un carico unitario di una tonnellata e mezza di bombe incendiarie ed esplosive da 15, 20 e 50 kg, i quattro trimotori decollarono. Tenete presente che questi aerei ricevevano un sovraccarico di 19.500 kg. Cioè, rendetevi conto, cioè, rendetevi conto, rendetevi conto. Ok? 20 tonnellate. Rendiamoci conto. Ok. Allora. Allora. Allora, dicevo, al comando del primo aereo c'era il tenente colonnello Ettore Muti, coadiuvato dal maggiore Giovanni Reina e dal capitano Paolo Moci, che a Guidonia si erano già fatti le ossa con gli SM82, decollando e volando con sovraccarichi fino a 21 tonnellate e 300 kg. Poi, sugli altri apparecchi, il secondo apparecchio era comandato dal tenente colonnello Federici e dal capitano Buzanca. sul terzo c'erano il capitano Meyer, il tenente Rebex e il maresciallo Aldo Carrera. Il quarto velivolo, invece, era pilotato dal capitano Zanetti e dal tenente Cecconi. Allora, prendendo quota e con un simile sovraccarico, insomma, la fatica era parecchia, gli SM82 puntarono con decisione verso oriente, sorvolando Cipro, Libano, Siria, Giordania, Iraq, fino ad arrivare al Golfo Persico. Ripeto, la cartina è questa, ok? Si vede? È chiara? Ciampino, Rodi, Manama, ok? Allora, nel corso della lunghissima tratta di andata, risultò subito fondamentale la funzione apripista dell'aereo di Muti. Sul lato superiore delle sue ali erano stati infatti dipinti due vistosi rombi bianchi illuminati da due fanali, sistema rudimentale ma efficace per fornire agli altri tre aerei un sicuro punto di riferimento nell'oscurità. Per motivi di sicurezza Muti aveva ordinato di mantenere un severo silenzio radio a parte le comunicazioni indispensabili da effettuare a bassissima frequenza all'ora per mantenere l'effetto sorpresa, insomma. Come dire, alle 2.20 del 19, poco prima di giungere alle isole del Bahrain, l'aereo del tenente colonnello Federici perse il contatto di vista con l'aereo di Muti e fu costretto a sganciare il suo carico bellico su altri impianti non lontani da quelli di Manama, che invece vennero centrati regolarmente dagli altri tre aerei italiani. Il puntatore Raina, il puntatore dell'aereo di Muti, che era l'unico puntatore di tutta la formazione, scrisse l'operazione di individuazione dell'obiettivo venne facilitata dalla completa illuminazione degli impianti di estrazione e raffinazione. Questi impianti furono in parte danneggiati dalle bombe che incendiarono sei o sette pozzi e alcuni depositi di petrolio. Avvistati dall'alto i bagliori delle prime esplosioni, Gli aerei italiani si defilarono immediatamente lungo la rotta di scampo atterrando alle ore 8 e 40 sul campo di Zula in Eritrea. Ripeto, ecco qua. Ok? Notate? Ciampino, Rodi, Manama, Zula in Eritrea. Dunque, dicevo La formazione italiana al completo aveva percorso ben 4200 chilometri in 15 ore e 30 minuti. Sull'aeroporto Eritrea, Eritreo, oltre ad una piccola folla di aviatori italiani, i reduci dell'impresa trovarono anche il quarto marsupiale della squadriglia che nel frattempo era giunto da Rodi per fungere da aerosoccorso nella tratta di rientro in Italia nell'eventualità che uno degli aerei italiani fosse costretto a un atterraggio di fortuna ad esempio nel deserto sudanese. Allora, pochi giorni dopo, tutti e cinque gli SM82 di Muti decollarono da Zula e raggiunsero senza scalo e senza alcun problema l'aeroporto di Roma-Urbè. Allora, dal punto di vista propriamente bellico, soprattutto in considerazione del ridottissimo numero di mezzi impiegati, la missione di bombardamento delle raffinerie di Manama non arrecò danni considerevoli. L'impresa condotta da Ettore Muti invece ebbe una notevole importanza sotto il profilo tecnico e propagandistico. Dopo il bombardamento da parte dei cinque aerei di Muti, la Royal Air Force fu obbligata a dislocare nei pressi delle raffinerie del Bahrain una squadriglia di caccia Gloucester Gladiator e a proteggere gli impianti con un paio di battaglioni ed alcune batterie di cannoni anti-aerei Bofors da 40 mm. Allora, effettivamente c'era una volontà di ripetere la missione magari con un numero più consistente di aerei ma all'inizio del 1941 Muti aveva proposto un secondo duplice ride sulle raffinerie inglesi di Manama e su quelle di Bushira in Persia da effettuarsi con 12 SM82, 6 per obiettivo, equipaggiati con nuovi serbatoi supplementari ed impianti radio tedeschi. Il progetto venne scartato in attesa dell'entrata in servizio di aerei più idonei come l'idrovolante quadrimotore Kant Z511 o il quadrimotore Savoia Marchetti SM95. Ma ahimè non se ne fece più nulla perché poi andiamo a perdere anche le basi. Il nostro impero, Eritrea, Somalia ed Etiopia, andò perduto quasi subito. A puro titolo di curiosità va ricordato che nella primavera del 1942 le importanti raffinerie del Golfo Persico vennero prese in considerazione quale obiettivo strategico anche dalla Luftwaffe e anche dalla marina imperiale giapponese. Allora, i tedeschi elaborarono un piano per attaccare gli impianti del Bahrain o quelli di Bushira con quadrimotori da bombardamento Junkers U290 che sarebbero dovuti decollare da Rodi Gadurra mentre i giapponesi optarono per l'utilizzo dei monoplani da bombardamento imbarcati sui sommergibili Yokosuka E14Y1 che, ripeto, avrebbero dovuto essere lanciati da due sottomarie. Non a caso, il 25 aprile del 1942 il sommergibile I-30 in missione nel Mar Arabico Settentrionale ricevette l'ordine di effettuare una ricognizione sui giacimenti del Qatar e di Bahrain da compiersi con l'idrovolante Yokosuka imbarcato. Operazione che venne però annullata per la massiccia presenza all'imboccatura dello stretto di Ormuz di unità di superficie britanniche e non se ne fece più nulla. Le raffinerie inglesi di Manama nel Bahrain rimasero, come dire, indisturbate per tutto il resto della guerra. Insomma, una missione di successo una missione che non poteva ottenere chissà quali risultati data l'esiguità delle forze ma si voleva tentare di dare un segnale di aggressività di dare un segnale di, come dire, di volontà di combattere questa guerra da parte del regime fascista. E Muti, allora, mettiamola così, Muti fu durante la Seconda Guerra Mondiale un pessimo politico, Il periodo in cui fu segretario del Partito Nazionale Fascista è unanimemente considerato come uno dei momenti peggiori della politica italiana durante il Ventennio. Ma non sono certo io a dirlo. Ciano lo definiva affarista, inetto e incapace. Insomma, parliamo di Ciano, 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 Ciano Galeazzo Bene, la rima è inano, meglio quella inazzo, diceva qualcuno. E Muti, Muti, mettiamola così, Muti era un eccellente pianificatore, era un uomo dall'indubbia capacità di proporsi come eroe, come uomo d'azione, Muti era indubbiamente un uomo d'azione, più, insomma, diciamo, uomo d'azione, cioè non era sicuramente una mente Muti, diciamoci la verità. La sua biografia parla abbastanza chiaro, la sua storia umana e politica parla sufficientemente chiaro. Dicevo, Muti durante la guerra diciamo, tirò un pochino, tra virgolette, i remi in barca. Il suo incarico come segretario nazionale del PNF fu breve e decisamente disastroso, perché voleva tornare oggettivamente a volare. Ma, ma, c'è, c'è un ma, c'è un ma. Durante la Seconda Guerra Mondiale bisogna ricordare le parole di quel grande pilota che fu il generale Attilio Biseo, che conosceva molto bene Muti, che con Muti aveva volato, che con Muti aveva avuto a che fare. Praticamente Biseo sosteneva che l'idea di Muti di dedicarsi alla preparazione delle missioni a lungo raggio era una scusa per tenersi fuori dalla guerra quotidiana, quella dura, lunga, pesante, cattiva e feroce, che si combatteva in Africa italiana, che si combatteva in Libia, che si combatteva in Grecia e in Albania. Biseo ebbe parole estremamente pesanti nei confronti di Muti. Disse semplicemente, in parole povere, che Muti era uno che preferiva fare il gradasso, il bello, con le sue spettacolari, ma relativamente sicure missioni, che non affrontare il vero combattimento, che non affrontare la durezza, la pesantezza e i rischi della guerra vera che si combatteva in Grecia, in Libia e in Africa orientale italiana. Il giudizio sul Muti, organizzatore di queste incursioni, non può essere che positivo. Naturalmente, ripeto, Muti sapeva benissimo che una formazione così piccola, armata con una... insomma, tre aerei armati con una tonnellata di bombe ciascuno, non potevano fare chissà quali danni, ma avrebbero dato un segnale, avrebbero fornito dati tecnici per ripetere ulteriori missioni, avrebbero fornito anche un grande successo propagandistico e soprattutto avrebbero fatto capire al nemico che l'aeronautica italiana, la regia aeronautica italiana, era in grado di colpire ovunque. Il problema però rimane sempre il solito. Mezzi, per quanto validi, ripeto, l'SM82, ripeto, l'SM82 Marsupiale era, come dire, sicuramente un aereo eccezionale come aereo da trasporto. La sua versione da bombardamento, l'SM82 armato, era oggettivamente un ripiego, era una soluzione di ripiego, una buona soluzione di ripiego, oggettivamente, ma, 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 come sempre si trattava di una, come dire, di una, dell'ennesima dimostrazione che l'Italia era costretta a fare nozze con i fichi segni. Insomma, l'attacco della regia aeronautica alle raffinerie di Manama del 18-19 ottobre, scusate, mi sono impappinato, 1940. Questo, ve la faccio vedere l'ultima volta, è la rotta seguita dagli aerei di Muti per bombardare le raffinerie del Bahrain, ripeto, Ciampino, Rodi, Manama nel Bahrain e Zula in Eritrea, in Africa orientale italiana. E dall'Eritrea i nostri aerei sarebbero ritornati senza scalo in territorio italiano. Insomma, fu una missione dall'eccezionale valore tecnico e propagandistico. I risultati pratici furono decisamente pochini, ma fu un'incursione che non fu mai possibile ripeterla. Si aspettavano che fossero pronti i mezzi adatti, mezzi che però non furono mai, e ripeto, e sottolineo, mai, appunto. E dopo questo primo attacco le raffinerie di Manama rimasero pressoché indisturbate per tutta la guerra. Quindi, cari signori, io vi ringrazio per l'attenzione a proposito di Ettoni Muti. Ne parlerò in un video apposito, però volevo aggiungere una cosa. Muti, durante la guerra di Spagna, si impegnò duramente e pesantemente nella guerra. Durante la Seconda Guerra Mondiale oggettivamente tirò un po' i remi in barca, preferendo alla durezza del servizio in guerra, starsene nella sua villa a Fregene con l'amante ciecoslovacchia Lidia Baharova, mentre Biseo masticava Amaro vedendolo, come dire, bello, fresco e riposato. Ma che vi devo dire? Invidia fra piloti o altro? Non lo so. Quindi, cari signori, ripeto, come sempre, aspetto i vostri commenti, come sempre, aspetto le vostre considerazioni a proposito di questa missione, a proposito di questa vicenda. Tutto qua. Quindi, cari signori, ripeto, arrivederci al mio prossimo video e come sempre, ciao!